Il mercato delle obbligazioni è ancora estremamente pessimistico e anche il Russell 2000, l'indice delle aziende con capitalizzazione di mercato piccola e media in America, ha stallato. Oggi voglio spiegarvi perché questi due fattori vanno tenuti sott'occhio e bisogna fare attenzione a come si comportano. Salve a tutti, Marco Casario qui, oggi vi faccio un video un po' diverso, un video di ragionamenti su effettivamente come un investitore, un trader, può usare gli strumenti, i grafici di alcuni sottostanti per cercare di capire come si può comportare o che cosa sta succedendo veramente dietro all'economia, perché di certo non lo può capire leggendo i mainstream media che ci raccontano quello che vogliamo. Allora ragazzi, guardate, partiamo dai rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni, ok? Allora, i titoli di Stato a 10 anni, aspettate, ve lo faccio vedere con il rendimento. Eccolo qua. Allora, vi faccio vedere, partiamo dal grafico dei rendimenti dei titoli di Stato in America a 10 anni, ok? Lo, appunto, US 10 years. Vedete che c'è stato un crollo importante e ragazzi, quando questi mercati scendono vuol dire che la visione degli investitori sull'economia nei prossimi 10 anni non è più così rosea. Hanno una visione, diciamo, pessimistica. Infatti vedete che praticamente da novembre hanno cominciato a scendere, hanno toccato questo minimo qua nel 2019, poi si sono un attimo, a inizio 2019, si sono un attimo rialzati, hanno creato questo doppio massimo e poi qua a marzo sono di nuovo crollati per creare un nuovo minimo, eccolo qui, e adesso non fanno altro che insistere su questi valori precedenti. Quindi è come se ci fosse stato un primo grande impulso, un piccolo ritracciamento e un secondo impulso. Adesso vedete che stanno usando come resistenza il valore che prima è stato usato come supporto, ma non è analisi tecnica che oggi voglio fare. Voglio dirvi semplicemente che dall'autunno del 2018 il segnale che gli investitori ci stanno mandando è un segnale di sfiducia riguardo due fattori. Uno, la crescita economica, la chiamiamo economic growth, quindi la crescita economica. Il secondo segnale riguarda l'inflazione. E voi potreste dire perché l'inflazione, Marco? Allora, perché l'inflazione la voglio mettere, voglio, per calcolarvi l'expectancy, ovvero l'aspettativa sull'inflazione da parte degli investitori, voglio portarvi a confronto due grafici. Questo grafico, quello del rendimento dei titoli di Stato a 10 anni, con il grafico dei cosiddetti Treasury Inflation Index Security. Perché che cosa sono innanzitutto questi Treasury? Qual è la differenza con gli altri? Allora, questi Treasury, ragazzi, sono dei Treasury che proteggono l'investitore contro l'inflazione, ok? Sono praticamente come dei Treasury Bond, quindi vuol dire che pagano gli interessi due volte l'anno su un rate fisso, però la differenza dai Treasury, dai Bond ordinari, sta nel valore di come è aggiustato il TIPS, così viene chiamato il Treasury Inflation Protected Security Work, viene abbreviato con la scritta TIPS, viene aggiustato verso l'alto o verso il basso, basandolo sull'inflazione, così come viene misurata dal Consumer Price Index, il CPI, ok? Ok? E perciò, perché è importante andare a vedere questo grafico e soprattutto notare che anche questo grafico è sceso e ha perso praticamente 54 basis point nello stesso periodo, quindi dall'ottobre del 2018. Vedete che qua il grafico, qui siamo a ottobre-novembre del 2018, vedete che non ha fatto altro che scendere. Quindi se noi usiamo il, per calcolarci l'aspettativa dell'inflazione, praticamente sottraiamo la differenza dello US a 10 anni con il TIPS, ok? Quello che esce fuori come valore è un valore di 1,96, che è un valore che è sceso rispetto al valore precedente di 2,10. Quindi vuol dire che così possiamo misurare qual è l'expectancy, l'aspettativa dell'inflazione. È un valore più basso, quindi vuol dire che gli investitori pensano che l'inflazione crescerà, potrebbe crescere. E un'altra cosa che voglio dirvi è che sarà molto, dovremo fare molta attenzione a quello che faranno le banche centrali, ragazzi, perché gli investitori è questo che stanno guardando. Abbiamo già visto che in Europa la banca centrale europea ha detto che, come del resto quella americana, non alzerà più i tassi di interessi perché ha capito quanto è fragile l'economia in Europa e lo stesso per la banca centrale europea. Quindi se andiamo a vedere, infatti, guardate, vi voglio far vedere il bond, le obbligazioni a 10 anni in Euro, cioè, scusate, in Europa. Vedete che anche qui, da ottobre 2018, non hanno fatto altro che scendere. Poi sono scese in maniera, hanno dato un'accelerata in questo momento qui, a febbraio, in concomitanza anche con la crisi che sta attraversando la Germania. Quindi, ragazzi, abbiamo un, diciamo così, basandoci sul mercato delle obbligazioni, possiamo vedere che c'è ancora una forte ondata pessimistica da parte degli investitori. Il dollaro, invece, che cosa sta facendo? Il dollaro sta salendo, sta crescendo il suo valore ed è arrivato ai massimi, vicino ai suoi massimi storici, adesso sta incontrando un po' di resistenza, però non ha fatto altro che crescere. Non ha fatto altro che crescere anche, e quindi, ragazzi, il, diciamo così, il euro-dollaro, se andare a vedere il forex, sta diminuendo il tasso nei confronti, perché il dollaro è sempre più forte, mentre è sempre più debole l'euro. Il petrolio, guardate qui che accelerazione ha fatto, anche per le decisioni di Trump nei confronti dell'Iran, fatto sta che il petrolio sta crescendo di molto, e quindi i mercati, e ovviamente anche, scusatemi, voglio farvi vedere anche l'S&P 500 che cosa sta facendo. L'S&P 500, l'avete visto tutti, perché se seguite il mio canale lo sapete, ha superato, praticamente sta incontrando un po' di resistenza, ma qualche giorno fa ha superato i massimi storici, così come ha fatto anche il Nasdaq, ma quello che invece sta fermo è il root, è il Russell 2000. Cos'è il Russell 2000? Ragazzi, il Russell 2000 come indice ha nel paniere le small cap e le mid cap, ok? Quindi, diciamo, è un termometro per l'economia del paese, in questo caso americana, molto più rappresentativo rispetto all'S&P 500, che sono le 500 aziende più capitalizzate negli Stati Uniti, o al Nasdaq, che rappresentano il settore tecnologico, che è un settore che sta pompando veramente tanto, ok? E di solito il Russell 2000 viene anche utilizzato di più per fare previsioni su come sta andando l'economia, perché ragazzi, le small cap come aziende, quindi il paniere da cui è formato, non hanno mercato in Europa o in Asia, quindi risentono molto di più del mercato locale americano. Del resto, questo indice, e in particolare le small cap, sono più rischiose in un contesto di aumento degli interest rate, dei tassi di interesse da parte degli Stati Uniti. Perché? Perché risentono del costo del lavoro, ok? Ovviamente più delle big cap, o delle aziende ad altissima capitalizzazione. Inoltre, hanno un, il Russell, ma del resto le small cap, hanno una relazione molto più forte con il GDP, quindi con il PIL, il prodotto interno lordo degli Stati Uniti. E se il prodotto interno lordo sale, tendenzialmente sale anche le small cap, il valore delle small cap sale. Ma se, come sta succedendo qua, scende il valore del GDP, beh, allora scendono anche le small cap, ok? Quindi questa era un po' un'introduzione che vi ho fatto per dirvi che cosa sta facendo il Russell. Guardate quanto è lontano dai massimi. Quanto gli manca ancora ai massimi la differenza rispetto all'S&P 500 e al Nasdaq, giusto? Quindi, manca ancora tanto, è in un periodo di stallo. Considerate anche che il Russell, come accesso da parte degli investitori, è molto più economico rispetto soprattutto adesso al Nasdaq e all'S&P 500, che richiedono grandi capitali per entrare su quel mercato per far trading. Perché il Russell ha molte più possibilità di entrare con mini contratti e quindi, diciamo, dovrebbe essere più interessante per i retail investor e i retail trader. Fatto sta che invece è fermo. Ok? Questo per me, insieme al discorso che vi ho fatto prima, mi sta mandando un segnale importante, un segnale di attenzione che devo considerare. Ok? I mercati ad alta capitalizzazione stanno crescendo, non sta crescendo il Russell, che rappresenta invece la vera economia americana. Quindi, questo ci deve far pensare, legato anche al segnale pessimista che ci stanno mandando i bond. Ragazzi, oggi volevo darvi queste informazioni, come al solito, non per allarmarvi, non per mettervi paura, perché lo vedete che stiamo continuando a far trading giorno dopo giorno, lo vedete anche dai miei video, il trader può guadagnare in qualsiasi contesto di mercato, ma deve avercelo chiaro, deve riuscire a cogliere i segnali per cercare di anticipare quello che può succedere sul mercato. Quindi, massima attenzione, fate le vostre ricerche, fate i vostri studi, io vi ho dato il trampolino di lancio, adesso approfondite voi. Ragazzi, un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!